Si è svolto presso la sede regionale dell'ANAS un incontro tra una delegazione dei sindaci della Locride e il responsabile del coordinamento territoriale Calabria, l'ingegner Giuseppe Ferrara. Oggetto dell'incontro è stato il completamento del tratto della nuova 106 da Locride d'Ardore. Presenti oltre al presidente del comitato dei sindaci Rosario Rocca, anche i sindaci di Siderno, Locride, Ardore e Bovalino, il vice sindaco della Comune di Sant'Ilario e il responsabile della segreteria del coordinamento territoriale Calabria-ANAS, Giusto Laugelli. I sindaci, che nel corso della prossima settimana incontreranno l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno, hanno rimarcato la necessità di velocizzare con l'avvio del cantiere, visto le riassicurazioni del ministro Re del Rio, rispetto alla copertura economica di cui aveva riferito in occasione della sua visita in Calabria, per la presentazione del coneprogramma della nuova ferrovia ionica. Se da lato si stanno così valutando eventuali accorgimenti ed ulteriori possibilità progettuali finalizzati a consegnare al territorio un'infrastruttura in grado di migliorare la qualità della mobilità dei nostri cittadini, dice Rosario Rocca, nei prossimi giorni insieme alla regione saremo nelle condizioni di fissare un cronoprogramma che presenteremo con un'iniziativa pubblica sul nostro territorio, possibilmente prima della sostestiva.